Sì, è leggero! Aspetta però, non sei tranquillmente, è leggero! Nooo! Aspetta, sono questi qua! No, via via via! Sono questi qua! Vai, va! Vai, chi ti è bifo? Sì, sì! E c'è... Chi c'è? No, la specie sono dei cani! E va buono! ... Bella! Shhh! Guarda, guarda che fumo era! Wow, bellissima! Quanto fumo ne fa? Vai troppo però! Vediamo se funziona questa qua! Forca miseria! Vediamo, ma non penso che va! No! Vediamo se va! Non so nemmeno io se funziona! Ecco qua la miccia! Ha preso fuoco! Attenzione! Nooo dai! Ha cileccato la monocolpo! E vabbè! E vabbè! Ripperoni! E vabbè! Sta ancora bruciando! Lasciamola lì! Ma che figo! Il fumo con il riflesso! Aspettato! Poi la vengo a pigliare dopo! Black Widow! Zitta zitta! La chita è bella! La chita è bella! Proviamo un po' Tu mezzo! Tu mezzo! Accendino! Questa farà male! Sì! Scappa scappa! Vai vai! Alla patrino! Corri corri! Zitta zitta! Che dici? Questa è quanto è questo? Trento! FONTANELLA FONTANELLA Questa qua è bellissima! Un punto scuro! Punto scuro qua c'è roba! Facciamola qua! Facciamola qua! Tanto è più scuro qua! Si vede meglio! Davide non fa casino! È la FONTANELLA! Sì! Non fa casino! È la FONTANELLA! Che urti! La FONTANA! Sì! È FONTANELLA! Non ci credi? Allora accendo! Ecco qua! La FONTANELLA! Non si vede! Eh! Non si vede! Si insomma! Non si è visto però! La FONTANELLA! Ma guardate solo la fontana che fumo ha fatto! Che miseria! è la FONTANELLA! Vai! Candela romana! Accendi! Accendi! Vai! Ma mettilo dritto! Vai! Clip! Fallibile! Allora! Fontana romana! Magari non in mezzo alla strada! Si vede! Si vede! Cosa avete detto? 10! Finito! Scendiamo due fontane romane! Ah! Ma questo qua! Dura da accendere! Dura da accendere! Si! Adesso si va! Ecco qua! Da me non manchi a mela! Sembra World of Banks! E' finita! E' finita! E' finita! E' finita! E' finita! E' finita! E' su sarro! Vai ne abbiamo una testa! Tieni! Che è 18 grammi! Quella è 2 grammi! Vuoi tu? E vieni qua! Stavo a tagliare a lei? No che fa male! No che fa male! Allora accendiamo tutto insieme! Allora! No no! Ma tienila così! Com'è dovrebbe essere così? Così! Vai accende! Stavo accendendo il condottore! Cambio di accendino! Non si è acceso! Ma prima! Non sei acceso la tua! Come l'accende bene! Accendino! Che è schifo di accendino! Non piglia! Non piglia! Ecco qua! Scusa eh! Scusa un po'! Ma attenzione! Ma già finito! Non sono male! Belli questi qua eh! Eeeeeee! Albanese! Forza Albania! Eh si! Bella però questa cosa! Eh lui! Non sono male! Ehi! Fami scoppiare quello! Occhio occhio! A me lo inquadrate! Aspetta bro! Quanto ne ha?! Ah! 2 grammi e mezzo! Ma come? Ehhhh! Qua! Di qua! 2 grammi e mezzo! Si! Vai! 2 grammi e mezzo! vai vai Nicola! Gennaro! Vai vai vai! Questa c'era quella lipolecca, senti questo qua! Ok andiamo con i fuochi d'articicio, i monocolpi, la prima purtroppo c'è il caso vediamo se qua non stanno... ah c'è l'albero! Questo è sull'albero! Ma chi te bi temo? Ecco qua! Ve lo vedo sta ferma! Ecco qua! Vai! Monocolpo della Spacim, questa è bella! Vai vai la monocolpo! La monoggetto! Ah no ci leccato che fastidio! E l'altra? Io non ci credo! Ce l'ha fatto un po'... ma io non ci voglio credere! Pure non ancora! Andiamo! Non va a dire fermare! Zitto zitto! Centino orribile! Vai vai! Questa qua fa solo così! Ma sono forti quest'anno? Questi sono deboli! Eh 5G si sono deboli! Sono deboli! Aspetta accendi pure il mio! Ma che è il Sandokan! Ma no! Ma si! Quelli grossi! E adesso... Sì! Aspetta! Ehi! Tappa! Ehi! 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 Ma no! Il Sandokan è proprio una... Fippa! Ehi! Ecco qua! Gli accendini! Non dai no eh! Non dai no eh! 5G! accendi accendi uno lo voglio buttare ma non si sente la miccia quando brucia non si sente la macchina cacchio qua vicino non so se sei scema questo vuoi più leggero più leggero questo qua 0.50 va schifo va schifo va schifo va schifo va schifo va schifo minchia guarda il fumo va schifo va schifo si è preso no lui no si è sceso si è sceso un po' di fumo please la polecca in mezzo all'elba non dovevi lanciarlo a tutiscia vai vai a piccia piccia oltre insieme dai nicola abbiamo accesi ecco lì ma solo due tre ne ha fatti io non ho sentito due va bene dai anche qua fumo vai ripiglia già in rack vai ce l'ho pure io il flipper non fallisce mai infatti non fallisce mai non fallisce mai il flipper che fa questo ma perchè l'ibici ma se esce l'ammorak no fanno schifo questi qua questo è più forte ah mi è arrivato qua oh mi è arrivato qua si anche sul lab mi è arrivato qua è arrivato uno qua uno schegge hai visto che metto l'erba è meno forte no no signorina adesso riprendi un po' tu e io sparo ma non ti prendi ma se no non te la gol ti riprendi di sfada capito eh ma se no vai vai lupo più uno lancialo qua in mezzo questo qua fa la spoletta guarda c'è piccola spolettina belli che fa questo ma perchè l'ibici ma se esce l'ammorak ma va l'ammor sto qui 5G 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 oh cacchio no liscio mezzo all'erba eh vabbè guarda 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 ma questa striscia di fumo come si sciorga adesso prendi adesso prendi ma non ho preso in coda attenzione no ha preso in coda Alla scuolata, alla scuoletta No, non ce la fai con il clipper, sto lì, sto lì Alla scuolata, alla scuolata Alla scuolata, alla scuola 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 Alla scuola